Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Mimmi di Mimmi Pai e oggi con Yoyo, che è il mio fratellino, andremo ad aprire 4 pacchetti dei mail contro te Speriamo che troveremo la golden card, quindi iniziamo Allora, inizio io, e questo ho qui Mimmi, apri le prime 3, perché le carte sono sue Io avevo preso qualcos'altro Sofì, lui con un pezzo di skateboard, questa ce l'ho già Poi questa sembra nella canzone del signor S E poi abbiamo questa nella canzone del signor S E lei l'hai steso su un maione Poi, ora, questa Grazie Sai tanto se la puoi aprire? No, io non aspetto a te Allora, ah, questa Abbiamo la scena del bacio di Sophie e Louis Poi Sofì Sofì Ehm, questa non trovo cosa si Un pezzo di faccia di Louis E un pezzo E dei pattini Sì Ok, questa è la notizia Dai, io oggi te la poterai No, no, stai tranquillo No, no, aiuto Ecco, questa è la parte di incontrare Sophie e lui Che è... Con... Ah, con... Un... Un pezzo di sesso Sì Ray Rai E Rai E Rai Ehm... Non so cosa Guarda che cane Vediamo cosa messi là Ah, qui è la scena di quel video Che è proprio una piscina di... Di carta... Oh, oh Una doppiona Questa Chi è? Sophie E questo sembra lui da piccola Ehm... Basta Ok Allora Ora le andiamo ad attaccare Allora Le vediamo poi Io ho fatto le 10 Le tue Allora Questa mi sembra di avere Ecco La quattro che va Qua Vediamo Io ho la 3 Ok E la quattro C'è la quattro E la mia 3 la metto da parte C'è questa Anche questa Anche questa E questa E questa Questa è già quattro Doppio Allora La 3 Dove va? Eccola Qui Ah, perché lui Non si fa la foto Allo schermo Poi la 23 Io invece ho la 11 Facciamo prima la 11 Eccola 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 Poi ho anche la 21 Ok La 13 Eccola 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 Ti do Un'amma Un'amma Sì Mi canto Io Vabbè Vai Una mano Una mano Allora Allora Questa è la 11 Si Si La 11 Così Brava Andiamo Alla 21 Poi Io ho la 21 Ah 21 Mettiti qua Se così non Io ho la 23 Io ho la 23 Intanto Io ho la 23 Ok Intanto io ho la 23 Non ho il giro No Eccola Eccola Venti 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 Questa è la venti Questa qui Ah eccola 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 C'ho messa Qui proprio male Ok Prego Intanto io faccio quella Questa è un'altra Questa è la prima Che vuole Sto vedere Mi ha giocchi Mi ha giocchi Mi ha giocchi Te l'ho detto che devi farla da questa carta No Ok Per la 25 65 Che è l'ultima Che è l'ultima Ok Le prendiamo per ultimo Poi abbiamo Ray 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 Tanti Ray Che bene Vai E' l'ultima E' l'ultima Facciamo anche la prima Per voi No E' ora Siamo alla pagina Vabbè Intanto io Continuo Andando avanti No Un attimo Un buchino Si è fatto Eccola qui E' la 21 Che è di lui Da piccolo Alla Ora 165 Andiamo dritti Dritti All'ultima Pagine Ma ora Giante 15 Ma io Avevo solo 2 25 Quelli Gli altri erano tutte i doppioni Quindi Ah Certo Ecco qua Ma se no non potevamo fare quelle prima noi Certo dopo dovremmo le darmi indietro Allora poi mettiamo queste due di Ray e di Ray 126 e 115 123 e 115 115 che è questa direi che è una farfallina che è proprio questa carina questa va qui? sì e poi è un po' di stizioni perché dobbiamo stare attenti che non si rompiamo ok e Ray prego asmo la chiave e la 23 chi è fatto? tu hai seduto sul divano come? come? ok mi sono appena accorto che le nostre mi sa che questa è chi è? chi è la? allora poi la 158 con le cose da box e la tua è a 107 150 vabbè prima parità è che c'è la 107 è questa sì bravo si è aperta qui ah abbiamo trovato un di stagione che le ha fatte di stagione di mamma mamma però fa la prima così ti rinvole qua non è tanto tempo ci rinvole qua non è tanto tempo ci rinvole qua questo va qui giusto? sì allora fatevi sotto sotto tetters tetters ah haters perché sono quelli che dipendono in giro bene fatevi sotto haters è vero ora 158 mi sembra un attimo voglio dare qui il momento prima del bacio sì 158 158 credo che sia proprio questa che canta un signor S ok 145 che è questa di sotto qui questa bellocicosa poi 160 se no che ti intorno ma questa che è di princesa che è così che mi sembra fammi le domande lui è appoggiato all'armaghetto all'armaghetto perché sono tanti ecco vedete l'armaghetto vedi ecco aspetta che chiediamo un attimo aiuto grazie allora eccoci la scena del braccio ok c'è più o meno del braccio meno questa è la scena del braccio poi ecco parlavamo 97 dove c'è il braccio dietro 97 eccola questa parte è una parte anche invidio un nuovo amico in famiglia penso che sia ecco 98 98 nel potere immaginare lui passione capelli capelli questa è l'ultima nostra figurina di oggi che era 98 ma che cosa è la ultima quella lui si è dottito quant'è l'unica se nei capelli è questo no la 74 ah si sett'anni fa 4 ok ultimi buonissimo figurina ok allora finite di attaccare tutte le nostre figurina dei me contro te se questo video raggiunge 10 like mia mamma mi conferrà altri 10 pacchetti di figurina dei me contro te un bacione e ciao